Buongiorno a tutti, sei la Rosina, la figlia, la tiglia del cantè, ma mi ho detto Anna Maria, un ricordo di Sant'Anna, patrona di mio villaggio. E ho le proprie definiti che avevo parlato qui. Sei nanti, l'ho vinto di novembre, e mi donnava non perché forse non tutti si ricordano che Sant'Anna si festeggiva anche in te fa data, per un voto che avevo fatto tanto tempo fa. Mon nonno, come contiave, è la gente del cantè, in te il mille nefente di suet, gli ha fatto un voto a Sant'Anna per preservarli dall'influenza spagnola. E parecchio, o le capità, che entri in nostro paese, niente le morte, o se veiei passare le morte che scendivano da servì, e anche o fernì i murivano che tendi. Parì, per ringraziare la santa, per la grazie ricevua, dall'ora, il 20 novembre, ogni anno si faceva sempre una messa e una processione con la statua pitoda di Sant'Anna, che è in sacristia. Facendo lo giro al contrario, e fai cosa fai tra le 26 di lui. O se sentivano fino alla mazonte di Catti, poi o se passavano sui piedi, e o se tornavano alla ciappella, passando durante la mazonte di Guitina. Anche lo mese di mai, dedicata alla Madonna, l'antarosa, che è anche la madre Rosella, e recitava i loro rosari tutte le nuite. Vi domandate come mai io mi conoscono tutti come Rosina. Ebbene, io ho detto a mia mamma paterna, che ha perduto il fenomeno, per ricordarsi la figlia di Rosina, morta da Paella a 29. Ciao a tutti!